Riccardo Calcagni e Davide Balestrero due degli autori dei tre gol oggi qui a Cesena del Matelica. Riccardo, secondo centro nei playoff, quanta soddisfazione? Beh sicuramente oggi abbiamo approcciato la gara in modo ottimo eh abbiamo fatto la partita credo noi per sessanta settanta minuti eh il gol è sempre una soddisfazione visto che ora sono già due consecutivi e di solito ne faccio sempre pochi eh un'ottima cosa e ci prendiamo questa vittoria molto sofferta ma molto goduta e adesso andiamo ad affrontare alle fasi nazionali. Quanto è stato emozionante in quegli ultimi secondi però chiederemo anche a Davide passare dalla gioia no? Perché negli ultimi minuti c'era stata l'espulsione un po' la gara sembrava incanalata in un certo modo poi c'è stato quel gol che sembrava la fine di un sogno e poi c'è stato qualcuno insomma che ha riscritto questo finale. Beh dopo quando ho visto il loro gol sinceramente ci credevo più poco perché butti la palla su ma non succede sempre ecco che riesce a ribaltarla in trenta secondi. Noi ci siamo riusciti con questo testone e ora ce la godiamo ce la godiamo tutta. Questo testone ha firmato penso un gol che entrerà nella storia del materica calcio come ti senti? Eh non ci sto capendo niente da una mezz'ora. No ma bella una soddisfazione gigantesca perché dopo una partita comunque giocata alla grande con intensità anche qualità eh vederla sfumare l'ultimo minuto ci ha fatto crollare il mondo addosso ma Providenza ha deciso che in dieci secondi cambiasse tutto emozione veramente gigantesca perché ce lo meritiamo. Quanto sarebbe stato ingiusto no dopo una partita affrontata in questo modo è vero che il Matelica lo 0-0 il pareggio non sarebbe bastato quindi doveva fare la partita però voi per 70 minuti avevate meritato il vantaggio poi invece sembrava tutto compromesso. Sì comunque la partita ovviamente vive di più fasi fare 90 minuti e tenere il controllo è difficile comunque contro una bella squadra. È chiaro che noi comunque abbiamo sempre giocato tutto l'anno per i tre punti quindi anche andare a difendere un 2-0 può sembrare semplice ma non è così. Poi per fortuna lui ha trovato il 2-0 il 2-1 ci ha messo un po' un po' in difficoltà ovviamente loro hanno trovato fiducia però c'è sempre un motivo i tre punti se sono arrivati non è un caso. Il sogno continua? Eh sì è un'esperienza che stiamo vivendo minuto per minuto con grande entusiasmo adesso andiamo alle fasi nazionali che è un obiettivo storico per la società per noi stiamo vivendo veramente un'esperienza bellissima. Sono tanto emozionati. Riccardo non c'è due senza tre? Speriamo speriamo sia di vittoria nei playoff sia di gol. Mister Colavitto il Madelica si è regalato questa prosecuzione di un sogno ma le coronarie sono state a rischio. Eh sì il calcio regala emozioni infinite questa è una vittoria che porterò sempre nel cuore perché sinceramente non meritavamo di uscire per quello che abbiamo espresso dal primo al novantacinquesimo. Però ci sono gli avversari ci sono i momenti di una partita e devo dire che i ragazzi comunque in quel dieci secondi hanno reagito e volevano portare a casa a tutti i costi il risultato pieno e ce l'hanno fatta. Anche perché in materia che aveva fatto una gara fantastica ehm non sembrava non meritava insomma quel pareggio che allo scadere sembrava aver vanificato insomma la prestazione l'orgoglio tutto. Sì sì è vero perché comunque ehm ci muovevamo bene in campo e abbiamo trovato i due gol veramente però alla fine ci teniamo sette sti tre punti ed è una vittoria che dedico veramente alla mia famiglia ai miei tre figli a mia moglie i miei tre figli Vittorio Valeria e Alessandro che mi danno la forza per affrontare queste queste sfide un ringraziamento a loro a mia moglie Maria Angela che mi stanno mi stanno vicini. Una gara perfetta il materica l'aveva interpretata la grande era andata meritatamente sul doppio vantaggio poi sembrava essere tornato quel due a due che era stato la costante di questa sfida no in tutta questa stagione con rigore sbagliato con anche il materica rischiato con Calcagni anche di arrivarci prima al raddoppio però dovevamo sfruttare meglio alcune situazioni in riconquista palla e ripartenza nella metà al campo loro però ti dico questo è il calcio e alla fine chi la butta dentro ha ragione come dico anche quando abbiamo perso in campionato noi l'abbiamo buttata dentro abbiamo ragione noi andiamo avanti e così Matelica la conosceranno sempre più in tutta Italia grazie a tutti